Giusto che un pochino la Francia, ma proprio poco poco poco, ti preoccupare? Assurdo Questo Però è super bello Un pochino 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 mi dici che devo perne un sorso anche ma è assurdo, ma dove l'hai comprata? ce l'hai anche te a casa, ho proposti diversi ma magari un giorno dove l'hai comprata, magari un giorno proverò anche la tua va bene, bevo ancora un po' assurdo, ok va bene, posso darti la tazza? d'accordo no? perché è un po' pesante, vorrei cambiare ok, va bene, grazie e questo cos'è? è un sorghetto la fumo sarà bellissimo aspetta però posso chiederti, ok, è molto bello questo suono eh però che cosa di speciale? bello e magari lo riproporrò anche in qualche video però diamo qualcosa di un po' più strano e imprevedibile ok, me lo tolgo e poi ah, devo girare ok vado ok ah, va bene, incredibile ok 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 pulizzo è ok Questi invece vanno di qua Ma è bellissimo Questo oggetto No vabbè Ok ancora un po' Qui 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 super bello grazie è stato veramente un bel suggerimento è stato molto sentire aspetta qualcosa qui non capisco aspetto un attimo su questo aspetta 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 grazie però in te non capisco davvero ci provo l'ultima volta ma veramente non lo so forse è questo che non va come dici? si effettivamente ci può stare ci può stare ci può stare ma facciamo altri due secondi questo suono e poi effettivamente perché ero molto amato quello che mi hai suggerito grazie quindi ok va bene un pochino ci sto anche perché in realtà le tue ciglia devono un attimo andare in su d'accordo? ok 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 ci sono ci sono ci sono di dando ciò 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 up 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 Z up 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 zing zack zing zack zing zack up 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 no dove è finito il pennellino? e questo è dove è nascosto? come hai fatto? che è sta roba? mmm fammi vedere mmm è uno stetoscopio 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 e cosa me ne faccio? ok si mette così mmm dici? e poi cosa dovrei sentire? ah ok provo così wow non sapevo che il mio corpo facesse questo suono ma guarda ma guarda e se io faccio invece così su di te wow ma ti senti il cuore? sulla faccia ma perchè? ok proviamo un'altra parte del peso adesso vediamo se sento ancora il cuore o qualcos'altro ma pazzesco ma il tuo corpo com'è fatto? oddio lo stesso scopo mi sta andando negli occhi ok adesso provo un'altra mia parte ok proviamo il mio sentito ma aspetta questo è gelatino forse ho mangiato troppi gelatini mi sono un po' un po' cumulati nel mento dici? provai il suono del gelatino ascoltiamolo ancora un po' allora allora proviamo un altro po' da aspetta 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 come hai sparito? come hai fatto? no me lo dici? vabbè a proposito a proposito a proposito già che non ho nulla in mano ma ho le mie dita volevo mostrarti una cosa che ho imparato recentemente è che è stanissima super bella vuoi sentire una cosa strana? ok lo faccio su di te e poi lo faccio anche su di me d'accordo? secondo me no sei pronto? d'accordo? ok 3 2 1 te l'entendo lo so è pazzesco no? si si è la tua faccia che fa questo suono si si lo fa anche la mia praticamente è si stavo provando in modo di fare i tappi così quando ho trovato questo metodo che fa questo suono pazzesco lo so è assurdo assurdo è assurdo però è super bello ok un buon tempo ok solo a me è stranissimo è vero? è stranissimo è vero? comunque ti sto guardando no? e mi sono accorto che effettivamente ti servirebbe un piccolo taglio di capelli ma si proprio giusto due ciocche bene ok allora finisco qui e aspetta giusto qui un pochino la franza ma proprio poco 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 ti preoccupare? ok ok ancora qui un po' sui lati si si te li faccio un po' scalati beh io direi che sono perfetti adesso anche la franza che ti ho fatto è sicuramente eccezionale va bene allora io direi non è nient'altro a suggerirmi giusto? ok quindi io direi che penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio proprio aspetta aspetta lo sto per dire perché hai passato le luci così presto? penso proprio in un dolore di abbassare le luci e augurarti una buona 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 notte buona 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 anche buona 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 buonas noches Buenas nuits show your dreams buon nuit buon night sweet dreams buon night sweet dreams spero si sia divertito divertito e dimmi se vorrai un altro video imprevedibile in futuro buon notte pasticcino buon notte pasticcino un bacione se vorrai un altro video imprevedibile in futuro buon notte pasticcino buon notte pasticcino un bacione che li spero